ciao oggi ti mostro come riciclare un vassoio c'è qui Orazio si sente la tosse di Orazietto come riciclare un vassoio che non sapresti come utilizzare e che cosa farne avrai bisogno anche di qualche oggetto di recupero che tu puoi collare e di colla tipo millechiodi o comunque che quando asciuga diventi un po' trasparente di un pennellino e un po' di alcol per ripulire 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 Grazie a tutti. 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 Allora, spero che questo tutorial ti sia piaciuto, che ti abbia dato un'idea in più per creare, ti saluto, alla prossima, ciao.